Mini recensione del disco Power Up degli ACDC del 2020 come vi avevo accennato nella top degli album degli ACDC e direi infatti di parlare un pochino di questo disco che come ho già detto è una bellissima e gradita sorpresa come ho anche scritto nel titolo perché seppur non abbia lo smalto di altri album come Highway to Hell o i primi che erano i grandi fasti degli ACDC, Power Up riporta in auge un po' la old school degli ACDC con questi riff molto melodici, infatti gli ACDC qua puntano tutto sull'armonia, su questi riff più complessi del solito su canzoni che sono meno simili alle altre però traspare sempre la voglia di non innovarsi e rimanere fedeli a se stessi un concetto che io condivido in certi gruppi come gli ACDC per esempio perché Power Up è un buon disco? intanto ha 12 tracce, tutte molto carine non è uno di quei dischi che dici wow c'ha 4 pezzi veramente belli ma le altre canzoni sono un po' deboli qua tutte le canzoni sono bellissime oppure belle oppure ascoltabili non tutte sono dei capolavori però ci sono alcune chicche che mi hanno davvero fatto molto piacere intanto nessuno avrebbe creduto in un nuovo disco degli ACDC dato che Angus sembrava solo più l'unico motivato perché era morto Malcolm Young il fratello chitarrista ritmico degli ACDC e cofondatore della band poi il cantante Brian Johnson aveva subito dei vari interventi alle orecchie perché risultava sordo il bassista sembrava intento a lasciare la band aveva voglia di smetterla lì e il batterista Phil Rudd era finito in prigione per delle questioni un po' scure si pensa si è stato coinvolto in un omicidio insomma invece alla fine sono tornati con un disco buono non è un capolavoro a questo disco però è un disco di tutto rispetto se ami gli ACDC non puoi chiedere di meglio ma analizziamo un attimo gli strumenti allora le chitarre ovviamente da cui partirei sono onnipresenti Angus Young è protagonista più che mai i suoi riff come ho detto sono molto più complessi e il cugino Steve Young sembra aver imparato la lezione del fratello è anche lui molto molto bravo le chitarre che pestano molto ma hanno quel sound compatto molto incisivo poi Brian Johnson ha una voce aggiustata perché l'aveva un po' persa negli anni 80-90 e dagli anni 2000 in poi era riuscito a risalire un po' di più il basso e la batteria formano invece uno dei comparti ritmici più grandi di tutta la storia dell'hard rock e del rock la batteria di Phil Rudd pesta nonostante in alcune canzoni verso il finale abbia un suono un po' ovattato diciamo e invece il basso di Cliff Williams si sente molto stranamente anche se normalmente in questi generi di musica come rock, hard rock, metal, heavy metal non si senta molto il basso qua fortunatamente il basso che è uno strumento che a me piace molto si sente e forma un comparto ritmico come ho detto grandissimo poi analizziamo un attimo le canzoni il disco parte in quarta con Realize Realize è una delle canzoni più belle dell'album parte subito con il botto poi Rejection è un'altra bellissima canzone nonostante sia un po' più classica delle altre è più lunga, molto più lunga poi abbiamo Shot in the Dark usata anche come singolo dell'album Shot in the Dark è anche questa è una delle più belle infatti qua troviamo nella prima metà del disco nella prima side delle più belle mentre nella seconda ci sono quelle un po' meno potenti comunque Shot in the Dark è bellissima con l'atmosfera molto blues funk poi abbiamo Through the Mists of Time forse la più bella dell'album una chicca veramente da riscoprire Kick You When You're Down un'altra delle più belle soprattutto l'inizio io l'inizio lo trovo magnifico e poi abbiamo Witches Spell anche questa molto molto carina Demon Fire sì, molto bella con le sue atmosfere blues dedicate a coinvolgere l'ascoltatore poi Wild Reputation e da qua iniziano quelle un po' meno potenti Wild Reputation, No Man's Land, Systems Down, Money Shot e Code Red che sono un po' tutti uguali diciamo però sono comunque delle buonissime tracce quindi direi di concludere dicendo che Power Up è un buon disco non ha purtroppo lo smalto di altri dischi come Highway to Hell o come i primi dischi degli ACDC che erano i migliori comunque è un ottimo album se amate gli ACDC non potete chiedere di meglio quindi